Una pista che porta proprio in vetta al nord-est e che si abbatte su una regione già squassata dalle inchieste sul consorzio Venezia Nuova, il Mose, l'Expo di Milano e a quanto pare l'intercettazione e le dichiarazioni del pentito dell'inchiesta mafia capitale Roberto Grilli portano ancora una volta qui in Veneto ma ad alta quota. Il gruppo facente parte a Carminati avrebbe dichiarato il pentito, soprannominato il nero, era un punto di riferimento per l'acquisizione di armi da parte di altri gruppi e organizzazioni criminali e proprio uno dei componenti di queste organizzazioni criminali avrebbe avuto il compito di ripulire le fatture originali di acquisto delle armi con altre fatture false. Operazione che, stando sempre alle sue parole, veniva fatta attraverso i diretti fornitori che si recavano spesso a Cortina d'Ampezzo dove testualmente era possibile fare tutte le fatture del mondo. Parole che hanno fatto dire al procuratore capo Pignatone che l'inchiesta è solo all'inizio e che potrebbe avere collegamenti a tutti i livelli politici e non solo. Le armi non sono ancora state trovate ma i denari in parte sì. Finora sono stati sequestrati 220 milioni di euro ma presto arriveranno altri provvedimenti. Una mafia nuova che non ha collegamenti con la mafia classica, secondo le parole del procuratore capo Pignatone questa mafia rispecchia in qualche modo.